Buonasera Buonasera a tutti Dalla voce di chi non ha voce Io oggi sono qui per raccontarvi Un fatto increscioso Un fatto raguncino Che fai? Attacchi il tuo padroncino? Hai ragione Il mio padroncino Vuole la pappa Sto facendo un video da un po' Perché non è il primo che registro E lui implora perché è da un'ora che L'avrei dovuto dare da mangiare Allora si sta un po' nervosendo Se potesse lui mi mangerebbe Però è affezionato a me Dicevo, un fatto increscioso Un fatto incommentabile Un fatto davvero violento Praticamente C'è una ragazza Parliamo di app su internet Che Mi aveva scritto Ciao piacere Insomma i classici convenevoli Poi dopo mi fa Che lavoro fai? E io semplicemente ti dico che Non ho praticamente Mai lavorato Il mio curriculum è vuoto E Ho un canale su youtube Che però è la mia passione Lo farai anche se guadagnassi zero Che mi dà qualche entrata Però vivo a casa Con mia mamma Bene Lei non mi ha risposto nulla Mi ha bloccato Perché vi dico questo? Perché molti reagirebbero con Con frustrazione Mamma mia Perché mi ha bloccato Questo cazzo però Non è giusto Non è giusto Che stiano a guardare i soldi Che stiano a guardare Che lavoro fa uno E io Che sono una bella persona Vengo bloccato così Con disprezzo Con indifferenza Solo perché non avevo Ingiustizia Non schifo No Non è il giusto approccio Potrebbe essere il mio approccio Se avessi avuto 15 anni Gista 16 16 18 Crescendo Si è maturati Se Si agisce diversamente Cioè È ovviamente Oscena questa cosa Ma non è giusto dire È ingiusto Perché ingiusto Sembra che tu Abbia subito un qualcosa Un torto Io non ho subito nessun torto Ragazzi È questo Il giusto approccio Tu non devi sentire D'abbia subito un torto Se lo senti Significa che sei un deficiente No Attenzione Significa che Semplicemente devi ancora Un po' crescere Interiormente Quindi Poi metti quell'obiettivo Non si può fare Dall'aggia al domani Intanto capisco Sul piano razionale Perché Non ha senso Sentire Sentire Un senso di ingiustizia Cazzo Io sono una bella persona Ho delle qualità E questa Si rifiuta Di volermi conoscere Solo perché Non lavoro Come tanti altri E un altro Che magari lavora Ma è un pezzo di merda Starebbe ancora parlando Con lei È ingiusto Non è ingiusto Sapete perché? Perché Non ho subito Un torto Anzi Ho capito Il livello Di questa persona La sua superficialità E quindi Sono fortunato Perché non ho perso tempo Con una persona Che non c'entra niente con me Cioè Questo blocco Ha portato a Un rapporto Stoppato Ancora prima di nascere E chi ci ha rimesso? Lei Che non ha potuto Avere la possibilità Di confrontarsi Con una persona valida Come me Ma occorre Pensarlo di se stessi Questo Per poter arrivare A questa conclusione Se non lo pensi Devi lavorare su quello Devi crescere Fortificarsi Migliorare umanamente E riuscire a pensare questo Ripeto Lo dico sempre Che non tutti Non per tutti faccia In un stesso modo Quindi Non preoccupare Se non ci riesci Poi ci potrai riuscire Però È importante Razionalizzare E avere L'obiettivo Giusto Cioè Come posso pensare Di aver subito un torto Ma chi se ne frega Di una cosia Qualcuno potrebbe Dimmi Eh però Questa Attenzione Secondo me È un autoconvincimento Siccome Ti ha rifiutato Un po' come quello Cos'è la storiella Lupo che non raggiunge l'uva Getta merda A parte che non c'è nessuna merda Perché Non ho nessun risentimento Nessuna sete di vendetta Tranquillissimo In più no Non è assolutamente così È importante anche quella favoletta Perché molti Effettivamente La vivono così No In meno Vi garantisco Certo uno poteva dire Come facciamo sapere Io ve lo garantisco intimamente Così guadagnerei a dire sta cosa Dai Vi garantisco che io Davvero Sento che Non ho perso nulla Ma Tra l'altro è anche abbastanza evidente Come si può pensare Cioè basta un minimo di Non tanta intelligenza Un minimo Cioè una ragazza Che mette un muro Solo perché non lavoro È una ragazza che al centro Non ha Incontrare un qualcuno Per una relazione umana Cerca una relazione Così come si cerca Un rapporto con una banca Dov'è la relazione? Se è quello Che ti interessa Soprattutto Il lavorare o meno Se io Fisicamente E caratterialmente Fosato identico Ma non gli avessi risposto così Lavoro Come impiegato Faccio l'insegnante Faccio il magazziniere Lei mi avrebbe Continuato a parlare E sei stata la stessa identica persona Con quel lavoro Questo fa capire Che non è ciò che conta La persona Nella Nella sua Essenza Nella sua Più vera Identità Ma conta L'aspetto esterno Allora Mi sento fortunato Perché? Perché per il fatto Di avere poche cose In senso materiale Non lavoro Non ho mai lavorato Per esempio Mi permette Di evitare Gente Che starebbe Con me O si relazionerebbe Con me Per motivi materiali Perché pensate Una persona Che lavora Che ha la macchina Non ho ancora peggio Non solo lavora Ma guadagna 5.000 euro al mese Tanti possedimenti Non è facile Puoi capire se Anche a livello di amicizia Non soltanto di donne Si avvicinano Per quello che sei O per quello che hai Non è facilissimo Poi magari lo capisci Col tempo Perché vedi Che tipo di interesse c'è Per cosa si rapporta a te Anche se non è facilissima Però lo si può capire Ma quando tu Materialmente parlando Dei pochissime cose Che sono al centro Della società Insomma A livello di status symbol A livello di priorità Beh Quando qualcuno Ti si avvicina Nonostante Tu non sia L'uomo Inserito nella società Con i Relativi Averi Blah 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 Beh Non dico che è una certezza Perché puoi incontrare Anche la persona Che magari ti vuole usare Per altri motivi Non materiali O che ha Le sue gravi Insomma Mancanze Però perlomeno Hai qualche possibilità in più Che quella persona Abbia davvero Un interesse per te E quindi Per me Non c'è nessun problema Nel mentre lei Facendomi questa domanda Cercava di capire Se valevo la pena Per lei E nel sentire quella cosa No non lavoro Ha capito No non vale la pena Per me Mi ha bloccato In realtà Mi ha permesso a me Di capire Se Lei valeva la pena Poi è lei Che ha bloccato E non io Ovviamente Ma in questo Io non ci vedo Nulla di ingiusto Questo significa Secondo me Crescere E essere Su una via Ancora più evoluta Rispetto al passato Perché ragazzi Io a 17 anni Non riuscivo a viverla così Pensavo Che io Un'ingiustizia Uno schifo Gli stronzi Sono più fortunati Chi è buono Chi ha delle vere qualità Invece Destinato alla sofferenza Ma perché Doveva ancora crescere Come può essere fortunata Una persona così Superficiale Come può essere fortunato Colui Che invece Ha le attenzioni Di questa donna Quando la stessa persona Non le avrebbe Se non avesse quel lavoro Beh però intanto Parla con lei Ma con chi parla Per quale rapporto Secondo voi Davvero una fortuna Avere 1, 2, 5, 10, 30, 40 100, 1000 Pretendenti in più Che però non sono interessati a te Ma a quello che hai E beh perché intanto ci parla Intanto vengono a letto con te Ma secondo voi Nota che vengono a letto Una volta Due volte Tre volte Dieci volte Avere più Possibilizzati Parne con cui andare a letto Vi porta alla felicità L'idea che siano più felici L'idea di chi Magari non è mai letto Con nessuno O con poche E quindi idealizza Quello che non Ma vi assicuro Che quello è niente Poi c'è eredità Nella rendersi conto Di chi Che i rapporti che hai Sono superficiali Ipocriti Non è risultato nulla E allora Io mi concentro su me stesso So quello che sono So quello che valgo Ed innanzi a chi mi giudica Perché non lavoro Penso Poverino Poverino E quando mi capita Tutte le persone Che sono davvero Interessate a me Allora dico Che bello Finalmente un essere umano E qui Dovete riuscire Ad arrivare a questo punto E uscire Dall'ottica Della lamentela Molti uomini invece Parlano di uomini Perché l'argomento è questo Ma Vale ovviamente Sia per gli uomini Che per le donne In entrambi i casi Purtroppo la società Ti porta A dimenticare Cosa significa Essere persone Molti cosa fanno Siccome vedono Che a molte donne Interessa quello Poi si attivano Per primeggiare Nel senso di Ho quel titolo di studio Ho quel lavoro Guadagno così tanto Compro quella cosa Così sarò figo Agli occhi di chi Di quella ragazza Per quale rapporto Per quel tipo di rapporto Superofficiale vuoto Quindi Non Non si mette al centro Di se stessi Davvero quello che conta Le relazioni Sono di bassa qualità Non sono relazioni Ma sono rapporti Di compravendita E poi si lamenta Che la propria vita è misera E sia infelice Ragazzi Io sono felice Quella ragazza no Come fai a sapere Ma come può una ragazza Così essere felice Non lo è Non lo sarà mai A meno che Non veda questo video E non intavoli Un percorso Di guarigione Perché sono malattie E poi queste E ovviamente Causate da cosa? Da una società Che fa ammalare La maggior parte delle persone Quindi cosa vuoi Dire che è ingiusto? Dal certo punto di sì Posso dirlo È ingiusto Ci sta un po' È ingiusto Ma che lei Si è così sfortunata Ho ribaltato le cose Rispetto a quando avevo 18 anni Cazzo È ingiusto Perché se lei Mi blocca Perché io non lavoro È perché lei È cresciuta in un contesto Di società e di famiglia Che l'ha fatta diventare così Io invece non sono così Perché sono stato fortunato Perché per una serie di variabili Ho capito tante cose Che fortuna che ho Che ingiusta la realtà Che fa sì che ci sono persone Destinate all'infelicità A meno che poi Prima o poi non capiscono Per ora Lei è sfortunata In questa sua infelicità Ed è sfortunato anche il ragazzo Con la quale lei parlerà Principalmente perché Lui lavora O magari ha un altro stipendio E anche nel momento Si illude di essere fortunato Perché ha trovato La gran gnocca Che ci sta con lui Poi Continua a sentirsi vuoto Se al centro della propria vita C'è soltanto questo Ed è sfortunato Perché anche a lui Manca tutto Mi seguite? Ovviamente sono i soliti Caproni che frantenderanno Ah quindi dici Che se una lavora Se uno lavora è male No Non ci sarebbe nessun problema Se io lavorassi Semplicemente Se lavorassi Mi darebbe comunque fastidio Se una persona Si realizzava con me In quanto lavora Perché sarei la stessa persona Ma quindi è male Se una ragazza Guarda uno Che lavora No Non c'è nulla di male Se tu Stai frequentando Un ragazzo che lavora Quello che importa È che tu non sia Con lui per quello Mica sono tutti delle merda Quelli che lavorano Ma neanche quelli che sono ricchi Se no stiamo parlando Dei comunistelli Invidiosi O quelli che si professano tali Che ce l'hanno con i ricchi Quando i ricchi La maggior parte Sono sicuramente Osceni Ma anche la maggior parte Dei poveri Sono osceni Perché Perché pensano ai soldi E all'avere più dei ricchi E quindi io Non lotto Per le ingiustizie sociali E non voglio dire Che le ingiustizie sociali Siano un fattore Da buttare nel cesso Però lotto soprattutto Per le ingiustizie mentali Prima delle ingiustizie sociali Prima dei problemi legati a Tu hai mille euro in più E mille euro di meno Diritti, doveri C'è la persona Io sono per la rivoluzione Io sono per la rivoluzione interiore La rivoluzione interiore È la cosa di cui più mi occupo io Poi non voglio svalutare Le rivoluzioni altrui Ma senza rivoluzione interiore Umanamente parlando Tutto il resto secondo me Tutto il resto Tutto il resto È noia Tutto il resto È noia Non ho detto Gioia Ma noia Con questa performance E con la standing ovation Che mi saluta Vi saluto a mia volta Vi abbraccio tutti E vi auguro Vi auguro Di capire tutte le cose Che mi sto dicendo E di interiorizzarle soprattutto Un abbraccio Se ti piace quello che faccio E da altri contenuti esclusivi Ti aspettano Puoi aderire fin da subito Cliccando sul tasto arancione Che comparirà fra pochi istanti Cuore un paio è un po' di peri E di entro E di ventà Grazie.